E salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video Io sono RT1936 Già e adesso faremo un nuovissimo video sul canale Faremo gli spacchettamenti Di... Delle carte della UEFA Champions League e della UEFA Europa League Ho già scantato la carta Devo solo vedere i giocatori che non ho ancora visto E partiamo subito ragazzi Allora, del Real Madrid C'è... CURTUHA, signorini miei! CURTUHA CURTUHA Fortissimo questo portiere, signori E adesso vi farò salutare Giosuè Per cui ci sono ancora altre carte Olè! Ecco cosa inietta la terra E adesso... Signori Bernes Del... Leister, questo giocatore non lo conosco Scrivetemi sotto nei commenti Se lo conoscete mi raccomodo lasciate un like e iscrivetevi Del AC Milan Leao Raffaele Leao Lui è abbastanza forte, giovane Penultima carta, mi sa? Che fenomeno? Linde è un buon difensore del Manchester United Vai! Poi... No, non abbiamo ancora finito Perché c'è un giocatore del Celtic Ed è... Edoardo Edoardo, signori Questo è forte Lo sono comprato proprio su FIFA Questo qua è forte, signori Quindi non ci lamentiamo E andiamo con l'ultima carta del PSG Paris Saint Germain Che sarà mai... Di Maria! Signori Grandissima Questo qua è il giocatore più forte di questa carta E signori Si conclude qui il nostro video Con Di Maria Si conclude in verrezza E adesso ci sarà il saluto finale Aspettate un secondo Signori Eccoci qua Nicos Io e Giosuè Ciao! E signori RTV936 E' tutto Mi raccomando Lasciate un like Iscrivetevi E... Ciao! Bella!